Fu colpito con quattro pugni e morì dopo aver battuto la testa sul marciapiede. Gli ultimi minuti di vita di Paolo Caprio, l'imbianchino di 40 anni di Bitonto, aggredito dopo una lite nella notte fra il 4 e il 5 settembre 2021, all'esterno di un bar di un'area di servizio di Modugno, sono stati ricostruiti nell'udienza in corso a Bari, che vede imputato l'ex pugile Fabio Giampalmo. Per la procura è stato un omicidio volontario. La difesa invece sostiene che si sia trattato di un omicidio preterintenzionale e che la morte di Caprio non sia stata causata dai pugni, ma per il trauma occipitale dovuto alla caduta. I testi, persone vicine all'imputato e che si trovavano con lui nella stazione di servizio, hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione della vicenda. Nel filmato si vede l'arrivo nella stazione di servizio dell'imputato e il momento in cui sferra i quattro pugni a Caprio, che cade all'indietro sbattendo la testa sul marciapiede. Nell'atto di convalida del fermo in carcere, il giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bari, Marco Galesi, aveva sottolineato la profonda conoscenza delle tecniche di combattimento di Giampalmo. Si tornerà in aula il prossimo 2 marzo.